A Bagnoli non dico nulla perché sono stati fatti annunci da più tempo e quindi veramente non ho nulla da commentare se non che noi comunque continuiamo a lavorare sul nostro progetto e andiamo avanti. Per quanto riguarda la giunta regionale, come ho detto già ieri, non vedo l'ora di fare un incontro con il presidente De Luca e la sua squadra perché ci sono tante criticità, tanti dossier che meritano risposta, noi siamo molto preoccupati di tante questioni che giacciono in regione quindi c'è bisogno di una giunta che lavora, non devo dare giudizi sulla qualità della giunta perché non è questo il tema, intendo lavorare con questa giunta. Sinecoma avete già concordato? No, non c'è una data ma io lavoro perché ci possiamo vedere la settimana prossima. Il San Paolo come piazza Prebiscito, io mi auguro l'ippodromo di Agnano e altri luoghi sempre di più riempiti di culture e di concerti su questo stiamo lavorando e quella sarà la strada.